Sono preoccupati i dipendenti della Brioni che in un'assemblea via web hanno incontrato i sindacati CGL e Cisle e Will per cercare soluzioni, salvaguardare il posto di lavoro e utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali possibili. Già i sindacati e le RSU di Brioni si erano riuniti nella sede di Confindustria Chieti-Pescara per il secondo tavolo tecnico sulla vertenza in corso assieme ai rappresentanti della storica Maison e dell'Associazione degli Industriali in balo il posto di lavoro di 321 dipendenti della Brioni. Deborah Del Fiacco, Will Tech Will. Sarà un percorso di esodo incentivato con un'apertura della cassa integrazione straordinaria per crisi di un anno e poi due anni di naspi. Sarà un'adesione per non opposizione al licenziamento e quindi questo perché il piano industriale che prevedeva i 321 esuberi, noi cercheremo di fare in tutti i modi possibili per arrivare a utilizzare tutti quelli che sono degli strumenti conservativi del posto di lavoro. Quindi ci saranno prepensionamenti e la possibilità di aderire per non opposizione, quindi con un incentivo all'esodo. E inoltre c'è un quadro normativo mutevole che rende la situazione più delicata, dice Leonardo D'Adazio, Femca Cisla. Effettivamente è difficile trovare delle soluzioni nel momento in cui facciamo tavoli tecnici e la sera si parla di blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto e il giorno dopo si torna al 30 di giugno. Quindi in base a questo noi ci muoviamo e cerchiamo di trovare gli ammortizzatori sociali che possono essere utili a trovare delle soluzioni alternative. E anche perché oggi i licenziamenti sono possibili solo attraverso l'adesione all'accordo dell'agosto del 2020 che permette di aderire a un accordo attraverso l'incentivazione all'esodo. Antonio Perseo, FICTEM, CGL Pescara. Voi insieme a tutti i sindacati avete detto che cercheremo di salvare il maggior numero di posti di lavoro possibile. Ovviamente questo è il nostro obiettivo principale. Abbiamo finito appena le assemblee e c'è molta preoccupazione tra i lavoratori. Quindi il nostro impegno sarà quello di salvare al massimo anche l'ultimo posto di lavoro. L'attenzione deve tornare su questa vertenza da parte di tutti gli attori, dalle istituzioni, dal Ministero, alla Regione, al Comune. Perché non possiamo essere lasciati da soli ad affronteggiare questo problema.